Mancano poche ore all'inizio del Festival Francescano 2014, siamo qui nella piazza centrale della manifestazione a Rimini col direttore del Festival Francescano Fra Giordano Ferri. Allora, quali sono le attese, i programmi, le aspettative per questa nuova edizione? Siamo pronti, il claim di quest'anno è liberi nella gioia, quindi ogni anno ci diamo un tema diverso. Quest'anno il tema centrale sarà quello della vera e perfetta Letizia di San Francesco, quindi in un momento di crisi come quello attuale cerchiamo di scoprire come Francesco riesce a essere beato e sereno anche nella sofferenza. Quali sono gli appuntamenti principali di un programma ricchissimo che ha tanti aspetti diversi, però quali sono gli appuntamenti da non perdere? Abbiamo più di 100 appuntamenti, abbiamo grandi relatori come il Cardinal Tagle, come il poeta Rondoni, Becchetti, Labosetti e tanti altri, più di 30 conferenze, abbiamo grandi spettacoli, sabato sera abbiamo gli artisti di strada, i Baskers che si esibiranno in questa piazza, più di 40 artisti di strada e iniziative per i bambini, in modo particolare domenica pomeriggio, ma come dico sempre, al di là del singolo evento, la cosa importante è il clima, lo spirito che si respira in questa piazza, di dialogo, di amicizia, di festa insieme. Gli appuntamenti iniziano venerdì 26 settembre qui a Rimini e continueranno fino a domenica 28 settembre.